che cos'è il biometano e può convenire si tratta del comunissimo gas metano solo che non è ottenuto dalle tradizionali fonti fossili bensì dalla purificazione del biogas il biogas è a sua volta una miscela di vari tipi di gas ottenuti tramite fermentazione batterica ed è composto per il 50 70 per cento da metano poi la percentuale può variare a seconda di vari fattori poi c'è il 30 per cento di anidride carbonica una percentuale tra il 2 e il 10 per cento di fapore acque e poi ci sono tracce di altri gas tra cui l'acido solforico la purificazione del biogas dal co2 e dalle altre impurità permette di ottenere appunto il biometano un combustibile essenzialmente identico a quello cui siamo abituati tant'è che si può immettere in rete e usare per l'autotrasporto o anche per la cogenerazione di energia elettrica e termica ma quali sono i vantaggi e anche quali sono gli svantaggi vediamolo insieme però prima di procedere metti mi piace a questo video il biometano è uno dei simboli dell'energia circolare dal momento che si può utilizzare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani i reflui zeotecnici anche gli scarti delle aziende agricole e anche molto altro ancora uno dei grandi vantaggi del biometano è che ci consente di valorizzare i rifiuti recuperando energia piuttosto che smaltirli e basta e ricordiamo che lo smaltimento dei rifiuti è impattante per l'ambiente e a costi molto elevati che si ripercuotono sulle nostre tasche alla fine quindi le aziende che decidono di dotarsi di impianti per la produzione di biogas fanno un doppio investimento da un lato abbattono i costi di smaltimento dei rifiuti dall'altro abbattono i costi della bolletta dell'energia questo è anche un buon modo per combattere il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti un altro vantaggio del biometano è che si tratta di un gas 100% rinnovabile perché prodotto da scarti organici o biomasse come combustibile ha anche il vantaggio di essere carbon neutral perché la quantità di co2 emessa dalla combustione del biometano è uguale alla stessa quantità di co2 che era stata fissata in precedenza dalla biomassa inoltre lo scarto del processo di fermentazione detto digestato può essere utilizzato come fertilizzante in ambito agricolo al posto dei cimi sintetici infine ha anche un vantaggio non comune a tutte le altre fonti di energia rinnovabile e cioè è programmabile cioè possiamo noi decidere quando aumentare o diminuire la sua produzione lo svantaggio più grande è che i processi fermentativi purtroppo sono maleodoranti quindi non si può procedere all'installazione vicino alle abitazioni o comunque devono essere installati dei costosi sistemi di abbattimento degli odorigeni in secondo luogo la fermentazione è un processo di decomposizione poco efficiente e che richiede condizioni controllate quindi necessita di personale specializzato in loco la resa del processo di metanogenesi dipende molto dalla qualità del substrato utilizzato quindi bisogna stare molto attenti su che materiale viene inserito all'interno del digestore in ogni caso essendo la fermentazione un processo di decomposizione incompleto non avremo mai solo metano ma come abbiamo detto anche anidete carbonica acqua e altre impurità e quindi queste impurità come le ammine l'acido solforico i tioli e altre sostanze che si accumulano nel digestato possono avere effetti fitotossici per le colture quindi occorre un impianto di trattamento e poi necessario rimuovere la co2 il vaporacqueo e l'acido solfidrico dal biogas se vogliamo ottenere il biometano la rimozione del vapore in particolare è molto complessa e costosa ad ogni modo il biometano è ormai una realtà consolidata in rapida espansione sostenuta anche da incentivi generosi rappresenta un pilastro della transizione ecologica insieme ad altri coambulanti quali per esempio il biodiesel se vuoi saperne di più visite il nostro sito web arrivederci